no ando addio troppa gente no 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 dio oh santo c'è niente porco no 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 dio santo amen ma c'è questo è anche la prima screen dai mettiti no 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 ozie tutto a posto spero che non moriamo subito quello che succederà non ho guardato raga non ho guardato ma che cacchia no raga l'ho tutto filmato ma che cacchia e te pareva però che morivo mannaccia tua porco